Roma, torna anche quest'anno a 50 appuntamento con il Festival di Pasqua, che da 20 anni in occasione delle festività pasquali porta la musica sacra nelle chiese di Roma e del mondo. La manifestazione si svolgerà dal 24 marzo al 20 maggio per la Pentecoste. Il festival, fondato nel 1998 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, è la più longeva manifestazione di musica ed arte sacra a livello internazionale. Da 20 anni si svolge ininterrottamente nella capitale, dalla Domenica delle Palme a quella di Pentecoste, con centinaia di concerti ed eventi musicali, gratuiti. Tra gli eventi più significativi, programma sul sito www.festivaldipasqua.org, l'inaugurale concerto dedicato allo scrittore Luigi Castiglione, scomparso due anni fa in Spagna, il 24 marzo nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, con esecuzione di una rara versione del Requiem di Mozart, adattamento del capolavoro realizzato dal musicologo e compositore Peter Ligtetel, recentemente ritrovato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Subito dopo il tradizionale concerto inaugurale, il festival di Pasqua entrerà nel vivo della programmazione per la Settimana Santa.